ben ritrovati mattina con noi con insieme di 10 e 36 allora simone si affrontiamo una questione molto legata al benessere mentale di ognuno di noi ricordiamoci che la vita per quanto sia bella simone dobbiamo sempre ringraziare che siamo in vita è anche a volte difficile e queste difficoltà all'interno delle persone si possono mostrare in diversi modi sicuramente uno dei modi anche più famosi che conosciamo sono gli attacchi di panico e oggi ne parliamo con il professore psicologo clinico e di riabilitazione professor daleo buongiorno buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori grazie per essere qui grazie a voi allora professore come dicevamo la vita a volte ci mette davanti a delle difficoltà e tutti noi le affrontiamo in modo diverso c'è chi è più forte e chi è meno forte chi è meno forte può inciampare negli attacchi di panico che cosa si intende per attacco di panico allora innanzitutto sarebbe diciamo bello poter fare subito una prima nota storica su che cos'è l'attacco di panico no perché lo chiamiamo così sì la storia ci insegna la la mitologia ci insegna che il dio pan questo dio mezzo uomo e mezzo essere animale mezzo caprino sicuramente durante le ore del meriggio andava praticamente ad attaccare le ninfe del bosco per possederle quindi queste ninfe quando arrivava all'ora del meriggio erano prese da attacchi spaventosi di paura erano immobili non riuscivano più a muoversi proprio perché poi tra le altre cose questo dio pan arrivava sempre con sembianze diverse quindi non riuscivano nemmeno a riconoscerlo ogni volta che lui arrivava arrivava nel buio del meriggio no quindi quando c'è praticamente la parte più più buia della della crepuscolo della sera no e con sembianze sempre diverse e questo avviene quando c'è un attacco di panico arriva sempre in modo improvviso e da individuo a individuo cambia lo stato di attivazione potremmo dire così l'attivazione che si crea all'interno diciamo della propria mente ma anche a livello psico corporeo quindi è qualcosa che arriva in modo inaspettato molti dei miei pazienti mi raccontano stavo guidando su un ponte a un certo punto la nebbia la nebbia agli occhi mi pare che la strada si incroci quindi che non riesco più a guidare a tenere il controllo però poi pensandoci col senno di poi di fatto che cosa avveniva che queste persone le mani continuavano ad avercele sul volante rimanevano sempre all'interno del loro abitacolo quindi non è che stavano provando praticamente un'esperienza extracorporea ma era la sensazione che in quel momento il proprio cervello dava loro cioè quello di non riuscire a controllarsi l'attacco di panico è una vera e propria perdita di controllo che a volte scusami Simone succede proprio nelle persone che vogliono invece controllare la vita esattamente quindi parte dall'ansia e dal controllo della vita parte dall'ansia e parte dal controllo della vita e infatti c'è da dire pure che un attacco di panico generalmente si scatena all'incirca dopo sei mesi da un fatto particolare un fatto da un trauma che è avvenuto da un fatto emotivamente particolare che può essere quello di una separazione oppure un vero e proprio trauma come la perdita di un caro o addirittura ad esempio anche l'avere assistito a un incidente stradale uno dei miei pazienti faccio riferimento a lui un giorno assistette ad un incidente stradale lì per lì non ci fece nemmeno caso cioè poi però col tempo quando una macchina lo sorpassò in autostrada quasi sfiorandolo rivenne quel ricordo traumatico all'interno del suo cervello da allora mi dice ho paura ad andare in autostrada perché penso che possa capitare anche a me sì e da lì la gestione anche del proprio tempo no perché giustamente cosa significa questo significa non vivere più avere quelle condotte di evitamento e chi vuole controllare delle cose ovviamente poi cerca di evitarle e ha proprio come si dice uno scontro corpo mente proprio quindi una scintilla quindi si è sopraffatti diciamo da un grandissimo senso di paura angoscia e ansia che è un mix proprio letale esattamente poi noi dobbiamo anche fare una distinzione tra ciò che l'attacco di panico che generalmente è sporadico e ha una durata di circa 20 minuti mezz'ora nei casi più gravi e quello che invece è il vero e proprio disturbo da panico diagnosticato attraverso diciamo i criteri del DSM quinto che è il nostro manuale diagnostico che ci dice che per soffrire di disturbi da panico bisogna averceli in modo frequente anche se poi cita due attacchi di panico in un periodo temporale dei sei mesi quindi già bastano due attacchi di panico per poter inquadrare diciamo l'attacco di panico in una categoria diagnostica che ci permetta di andare a verificare cosa in quel momento noi stiamo provando e cosa sta succedendo nel nostro corpo esatto che cosa cambia perché tutto ovviamente lo scatolisce la mente si scatolisce dentro la nostra mente cos'è che praticamente succede quando c'è un attacco di panico guardate anche se è molto soggettivo è molto soggettivo da soggetto a soggetto ognuno lo vive in modo particolare generalmente quello che raccontano le persone in Italia circa il 10% della popolazione soffre di attacchi di panico o riferisce di soffrire di attacchi di panico perché dobbiamo sempre fare la distinzione tra ciò che è la parte epidemiologica e quindi i dati che abbiamo e poi quello che invece viene riferito al medico di base, allo psichiatra allo psicologo, psicoterapeuta nel caso e cosa succede? C'è un blocco il cuore va all'impazzata si va in iperventilazione quindi non si riesce più a respirare quindi si introduce troppo ossigeno all'interno del nostro corpo per cui l'ossigenazione diventa eccessiva e quindi ci sembra quasi di provare sì, praticamente soffocamento irrigidimento della parte muscolare e quel blocco che avviene per cui io mi irrigidisco e non riesco più a fare nulla hai voglia di dire alle persone guardate 10 minuti, 15 minuti e passa è una cosa che arriva improvvisa quindi nessuno che sta vicino a quella persona può dire aspetta, aspetta che passa perché la loro sensazione è quella di morire come se ci fosse in corso qualcuno dice un infarto che poi ha delle situazioni totalmente differenti generalmente quando una persona arriva da me io lavoro in uno studio dove c'è lo psichiatra il medico di base e poi ci sono io quindi generalmente... perché dottore diciamolo chi soffre di attacchi di panico si deve rivolgere al... assolutamente sì assolutamente sì sia al medico di base? sì al medico di base che poi qualora ce ne fosse di bisogno allo psichiatra e poi iniziare un vero e proprio percorso di tipo terapeutico quindi con uno psicoterapeuta che si occupa specificatamente di attacchi di panico o di ansia perché ricordiamoci una cosa non tutti siamo purtroppo abilitati a fare tutto ci sono dei settori che sono ben specifici non basta raccontarlo ma c'è bisogno di un vero e proprio percorso di cura per cui la prima cosa da fare è parlare con il medico di base descrivere sintomi quello che si prova sì dopodiché il medico di base che è formato per questo deciderà se inviare o allo psichiatra oppure allo psicoterapeuta generalmente come si cerca di affrontare il problema allora tanto il disturbo di panico gli attacchi di panico rientrano in quella categoria proprio più diciamo grande che sono i disturbi di ansia sì ansia generalizzata che molto spesso invece diventa ansia anticipatoria perché abbiamo paura della paura paura che quell'attacco ci possa ritornare è un circolo vizioso è un circolo vizioso credetemi ci sono alcuni pazienti che mi dicono dottore guardi io mi ricordo proprio il momento esatto l'anno scorso una persona comunque con una certa cultura con un background culturale abbastanza ampio quindi capita a tutti cosa fa? viene da me e mi dice io da un po' soffro di attacchi di panico io dico mi racconti cosa è successo? mi racconta la sua storia aveva cambiato lavoro e si trovava sotto stress quindi aveva difficoltà da Montesacro che è una zona di Roma fino all'Euro a raggiungere praticamente la sua postazione lavorativa che cosa aveva fatto? siccome al lavoro ci doveva andare lui si era studiato tutto un percorso per cui incrociava praticamente tutti gli ospedali che potevano essere all'interno di quel percorso quindi passava dal San Giovanni poi andava fino praticamente poi ritorno passava dal Santo Spirito perché dice dovesse succedermi qualcosa almeno so praticamente che c'è un ospedale vicino perché lui pensava proprio di morire di non controllarsi e attenzione capita anche se uno è medico di attacchi di panico cioè non possiamo fare una distinzione tra la popolazione possiamo fare una distinzione invece tra soggetti più sensibili e soggetti meno sensibili no anche perché qui come ci dice lei c'è proprio la paura si vive con la costante paura che questo attacco di panico possa tornare da un momento all'altro magari in momenti anche delicati quando siamo al lavoro perciò ci renderebbe comunque deboli agli occhi degli altri una cosa del genere quindi è tutto un circolo che spero si può spezzare allora è un circolo bella questa domanda e mi piace perché lì poi entra in atto anche l'autostima e quindi nel momento in cui io sto al lavoro e comincio ad avere quella sensazione dell'attacco di panico che mi può anche stimolare qualcosa a livello corporeo che può essere che so un attacco di diarrea ad esempio una gastrite fortissima per cui ho bisogno di andare a vomitare oppure mi può scatenare la mancanza di aria e quindi ho bisogno di uscire fuori e quindi devo chiedere il permesso e quindi questa cosa mi mette in imbarazzo perché non solo devo chiedere il permesso e quindi rivolgermi al mio capo ma devo mostrare agli altri quello che io ho in quel momento e bisogna metterlo a se stesso e agli altri assolutamente sì quello che bisogna fare in questi casi è intanto spiegare al paziente in questo caso che non è solo al mondo e non è l'unico a soffrire di attacchi di panico come abbiamo detto ne soffrono il 10% della popolazione diciamo italiana poi su scala mondiale siamo a livelli veramente esagerati molto spesso questi pazienti vengono trattati con farmaci quindi c'è un uso anche delle benzodiazepine quindi famosi calmanti esattamente gli ansiolitici oppure alcuni tipi di antidepressivo che contengono alcune molecole che possono essere utili a calmare quello stato lì però non c'è solo bisogno del farmaco o perlomeno in alcuni casi c'è bisogno del farmaco a seconda anche del tipo di lavoro che si fa a seconda anche del tipo di vita che si fa c'è bisogno proprio di un esercizio cioè un esercizio che insegna alla persona come gestire un attacco di panico o come gestire la propria ansia un training un training che si può fare su se stessi assolutamente sì da soli non andiamo in nessun posto questo lo dobbiamo dire perché noi possiamo guardare tutti i video su youtube possiamo guardare tutti i vari video tutorial possiamo ascoltare il dottor D'Aleo che ci dice come comportarci ma abbiamo necessariamente bisogno di uno specialista che ci indichi la strada prima tra tutte le cose delle analisi del sangue facciamo l'emocromo cerchiamo di capire un pochettino come stiamo a livello diciamo biologico nel caso delle donne controllare la tiroide perché può essere che in un periodo particolare come quello che può essere la menopausa possano attivarsi determinati ormoni e quindi poter soffrire di quegli stati che noi appunto chiamiamo attacchi di panico ma che probabilmente potrebbero essere risolti in modo totalmente differente e cosa fare quando c'è un attacco di panico questa è una domanda che tu una domandona perché noi possiamo dare consigli a gogo ma qualsiasi consiglio che diamo andrebbe tarato sulla persona è talmente soggettivo che fondamentalmente un decalogo non esiste per questo bisogna avvicinarsi a uno specialista esistono immagino che la mente poi si opposchi in quel momento assolutamente esistono quelle che vengono chiamate best practice quindi cosa fare quando c'è un attacco di panico beh sicuramente se aiutati da uno specialista le persone che hanno in corso un attacco di panico sanno che non stanno per morire non succede nulla non è mai successo che qualcuno muoia di attacco di panico che all'improvviso tac e la persona si spegne semmai si spegne il cervello non abbiamo più la capacità di essere lucidi quindi di ragionare questo è legato appunto a quello che dicevamo che si abbassano molto i livelli di anidride carbonica all'interno del nostro sangue per cui i globuli rossi non riescono più a trasportare l'ossigeno necessario e quindi aumenta l'ossigenazione quindi si va in iperventilazione e la persona proprio sembra aver perso completamente il controllo se si è in macchina è il caso di fermarsi aspettare 10-15 minuti 20 minuti se superata la mezz'ora i sintomi o le sensazioni che proviamo persistono allora lì è il caso di andare al pronto soccorso perché potrebbe essere legato ad altro generalmente si dice mi sembra che ho un infarto in corso ci sono delle cose che ci somigliano ma noi sappiamo che l'infarto ha anche un'eziologia diversa quindi ha una manifestazione in modo differente però è qualcosa che può anche somigliare a un infarto quindi è giusto che la persona si preoccupi ma non in quel momento si deve preoccupare subito dopo andare a fare i giusti controlli medici cioè non possiamo pretendere che finito l'attacco di panico poi abbiamo il nostro sacchettino magico per cui tiriamo fuori qualcosa che ci curi o la pillola magica la pillolina l'anziolitico l'antidepressivo che ripeto se sotto prescrizione medica è utile sarà lo specialista a dire se serve o no è utile ma non va a curare la persona cioè non fa sparire l'attacco di panico fa sparire in quel momento la sensazione che proviamo ricordiamoci poi che le benzodiazepine hanno un raggio di azione che va praticamente diciamo si attivano dopo circa 15-20 minuti spesso si attivano quando l'attacco di panico è finito e provocano anche tanta sonnolenza possono provocare anche stanchezza possono provocare tante altre sensazioni che ogni soggetto descrive in modo differente insomma dottore non è che stiamo dicendo no alle medicine contro gli attacchi di panico l'unica cosa che stiamo dicendo è che prima di arrivare magari all'uso delle medicine è meglio passare per uno psicoterapeuta e per farsi aiutare con delle pratiche apposite per gli attacchi di panico e di ansia per farsi per scrivere le medicine non è che uno va in farmacia immagino e chiede non credo te le danno però è importante sottolinearlo io però ho una curiosità perché mi è capitato e non ho mai capito se effettivamente fosse un attacco di panico allora parliamo dello stato del sonno è lo stato in cui siamo il più vulnerabili possibile quindi ci scarichiamo chiaramente molti scaricano anche con i sogni io per esempio lo faccio molto è possibile avere un attacco di panico durante il sonno? allora guardi alcune persone parlano di momenti particolari nel dormiveglia diciamo quando si stanno per svegliare oppure quando si stanno per addormentare provano forti sensazioni di paura e di tremore il cuore che batte all'impazzata e pensano che si loro pensano che possa essere un attacco di panico in quel caso è una cosa che va sempre valutata cioè c'è bisogno di conoscere la storia del paziente c'è bisogno di conoscere tutto quello che porta questa persona ad addormentarsi con questo stato perché molto spesso i pensieri della giornata che abbiamo durante la giornata o tutti gli stressor che accumuliamo durante la giornata poi ci portano durante la fase diciamo del sonno a rielaborare un po' tutti i processi durante il sonno avviene questo il sonno ricordiamo dovrebbe essere riposante dovrebbe essere rigenerante molto spesso non lo è perché la persona non riesce durante la giornata a scaricare i propri pensieri sarebbe utile in questo caso poter fare attività sportiva e quindi magari dare una bella scarica di adrenalina al corpo alla mente alla mente soprattutto leggere un libro la sera magari prima di andare a dormire e evitare assolutamente la pratica dei telefonini di leggere le mail di leggere le mail luci blu perché sono tutte influenze di cui non abbiamo bisogno dall'esterno luci blu fanno male meglio leggere un buon libro ma capisco che è andato in disuso oppure ascoltare un podcast di rilassamento oppure della musica piuttosto che magari metterci là e andare a fare scorrere 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 esattamente perché tutte queste immagini che si ripetono ovviamente danno una sensazione di accelerazione e velocità al nostro cervello che non ci permette nemmeno di mettere a fuoco determinati pensieri no? e quindi questo può creare un problema una cosa che ci tenevo a dire molto spesso si parla di tecniche rilassanti rilassanti ma anche di tecniche immediate durante l'attacco di panico per lo più si parla di respirare all'interno di un sacchetto quando si ha in corso un attacco di panico per molti è utile per altri molto meno perché bisogna anche saperlo fare perché non è che basta avere un sacchetto di carta ricordiamoci il sacchetto deve essere di carta ma è di plastica perché se è di plastica può capitare che la sensazione si accelera e quindi praticamente quando respiriamo un'altra volta questo sacchetto di plastica ci si appiccica al naso alla bocca e quel senso di soffocamento aumenta e quindi tendiamo anche a stare più male quindi meglio un sacchetto di carta oppure addirittura qualcuno dice mettere un dito su una narice e respirare solo con l'altra proprio per far entrare diciamo l'ossigeno in modo equilibrato oppure ad esempio se si è in casa e si può fare stendersi per terra e cercare di fare una respirazione più diaframmatica e quindi magari mettere una mano sulla pancia e quando si inspira proprio gonfiare lo stomaco quando si inspira e poi buttare tutta l'aria fuori nel momento in cui stiamo espirando e far durare quel momento a lungo ricordiamo dottore che la respirazione diaframmatica è quella che si ha quando si è distesi sul letto soprattutto su pini soprattutto mentre si dorme quindi noi la facciamo naturalmente sempre assolutamente sì è una cosa che usano molto ad esempio i cantanti chi usa la voce per lavoro quindi i cantanti lo fanno molto spesso anche per prima di salire sul palco fanno degli esercizi di respirazione diaframmatica per riscaldare la voce o anche per rilassarsi un momento prima di salire sul palco dove poi ci sarà si presuppone una scarica di adrenalina ma non indifferente quindi nessuno purtroppo è immune e nessuno ha la parolina magica per farti passare l'attacco di panico mi è capitato che alcuni pazienti mi hanno chiamato in momenti particolarissimi della loro vita chi stava al ristorante con la propria famiglia a un certo punto mi chiamano e mi dice dottore aiuto aiuto aiutami sto morendo non ce la faccio più forse qualcosa mi è andato di traverso e allora è lì con molta calma anche se noi non lavoriamo H24 però ci sono delle situazioni in cui bisogna un po' mettere da parte questa cosa e cercare di essere d'aiuto quanto più possibile mettersi una mano sul cuore mettersi una mano sul cuore ma anche cercare di capire ecco perché parlo di persone specializzate che trattano attacchi di panico e stati di ansia acuti che quando c'è quell'acme cioè quella parte proprio che raggiunge l'apice quella persona è fuori controllo non si rende conto di niente non si rende conto di niente quindi potrebbe fare la qualsiasi quindi in quel caso io a quel paziente magari si riconoscerà se ci sta ascoltando ho detto ok vai in bagno ho fatto fare delle cose che distogliessero l'attenzione dall'attacco di panico quindi l'ho fatto sedere sulla tavola del water ho detto prima di bagnarsi i polsi con l'acqua fredda di sciacquarsi la faccia tutte quelle situazioni che possono in qualche modo far fare switch al cervello quindi far spostare l'attenzione da una cosa all'altra poi qualche esercizio di respirazione a un certo punto eravamo quasi a 12 minuti di chiamato mi ha detto sai che mi sento meglio adesso ritorno a mangiare e io facendo l'abbattuto ho detto ma l'ant'era andata qualcosa di traverso evidentemente no è vera evidentemente no comunque diciamolo che degli attacchi di panico se ne esce perché sono davvero una brutta bestia purtroppo dobbiamo dirlo si soffre tanta gente soprattutto nel nostro paese e ricordiamo professore quindi che non bisogna bisogna andare contro il fai da te ma farsi aiutare da specialisti ovvero prima andare dal medico di base poi il medico di base decide se mandarlo dallo psichiatra o direttamente dallo psicoterapeuta e ricordiamolo a tutti insomma di no al fai da te no al fai da te non andiamo in farmacia cercando di trovare rimedi che possano essere più o meno corretti uno in farmacia non dovrebbero mai dare senza una prescrizione medica una benzodiazepina o qualsiasi altro tipo di farmaco ok quindi chi arriva da me e dice ma sono passato a prendere praticamente il farmaco X io dico chi te l'ha prescritto ah no avevo letto su internet questa cura fai da te che ah ho detto complimenti a chi ti ha dato il farmaco a volte nemmeno è vero ce l'hanno a casa però si giustificano dietro queste cose mai affidarsi insomma di internet solo ai professionisti parlate con i professionisti grazie alzate il telefono piuttosto grazie assolutamente sì grazie professor D'Alevo per essere stato con noi ricordiamo lo psicologo clinico e della riabilitazione grazie e noi ci vediamo tra pochissimo Simone sì che succede parliamo di per l'ultima mezz'ora insieme no c'è un personaggio strano non lo so vediamo aspettiamo dopo la pubblicità tra poco grazie a tutti